4. Fu così. Un giorno a caccia mi fermai stranamente impressionato innanzi a un pagliaio nano e panciuto che aveva un pentolino in cima allo stollo. Ti conosco, gli dicevo, ti conosco. Poi a un tratto esclamai, toh, batta malagna. Presi un tridente che era lì per terra e glielo infissi nel pancione con tanta volutà che il pentolino in cima allo stollo per poco non cadde. Ed ecco batta malagna, quando sudato e sbuffante portava il cappello sulle ventitré. Scivolava tutto. Gli scivolavano nel lungo faccione di qua e di là le sopracciglia e gli occhi. Gli scivolava il naso sui baffi melensi e sul pizzo. Gli scivolavano l'attaccatura del collo, le spalle. Gli scivolava il pancione languido, enorme, quasi fino a terra, perché, data l'imminenza di esso sulle gambette tozze, il sarto, per vestirgli quelle gambette, era costretto a tagliargli quanto mai agiati i calzoni, così che, da lontano, pareva che indossasse invece bassa bassa una veste e che la pancia gli arrivasse fino a terra. Ora, come con una faccia e con un corpo così fatti malagna potesse essere tanto ladro, io non so. Anche i ladri, mi immagino, debbono avere una certa impostatura che egli mi pareva non avesse. Andava piano, con quella sua pancia pendente, sempre con le mani dietro la schiena, e tirava fuori con tanta fatica quella sua voce molle, miagolante. Mi piacerebbe sapere come egli li ragionasse con la propria coscienza i furti che di continuo perpetrava a nostro danno. Non avendone, come ho detto, alcun bisogno, una ragione a se stesso, una scusa, doveva pur darla. Forse, io dico, rubava per distrarsi in qualche modo, povero uomo. Doveva essere, infatti, entro di sé, tremendamente afflitto da una di quelle mogli che si fanno rispettare. Aveva commesso l'errore di scegliersi la moglie d'un paraggio superiore al suo, che era molto basso. Or questa donna, sposata a un uomo di condizioni pari alla sua, non sarebbe stata forse così fastidiosa come era con lui, a cui naturalmente doveva dimostrare, a ogni minima occasione, che la nasceva bene e che a casa sua si faceva così e così. Ma ecco, il malagna, obbediente, far così e così, come diceva lei. Per parere un signore anche lui, ma gli costava tanto, sudava sempre, sudava. Per giunta, la signora Guendalina, poco dopo il matrimonio, si ammalò ad un male di cui non poté più guarire, giacché, per guarirne, avrebbe dovuto fare un sacrificio superiore alle sue forze, privarsi niente meno di certi pasticcini coi tartufi, che le piacevano tanto e di simili altre golerie e anche, anzi, soprattutto del vino. Non che ne bevesse molto, sfido, nasceva bene, ma non avrebbe dovuto berne neppure un dito. Ecco, io e Berto, giovanetti, eravamo qualche volta invitati a pranzo dal malagna. Era uno spasso sentirgli fare, coi dovuti riguardi, una predica alla moglie sulla continenza, mentre lui mangiava, divorava con tanta volutà i cibi più succulenti. Non ammetto, diceva, che per il momentaneo piacere che prova la gola al passaggio di un boccone, per esempio, come questo e giù il boccone. Si debba poi star male un intero aggiornato. Che sugo c'è? Io son certo che me ne sentirei dopo profondamente avvilito. Rosina? chiamava la serva. Damme ne ancora un po'. Buona questa salsa maionese. Maionese! Scattava allora la moglie inviperita. Basta così. Guarda, il signore dovrebbe farti provare che cosa vuol dire star male di stomaco. Impareresti ad avere considerazione per tua moglie. Come, Guendalina, non ne ho? esclamava malagna, mentre si versava un po' di vino. La moglie tutta risposta, si levava da sedere, gli toglieva dalle mani il bicchieri e andava a buttare il vino dalla finestra. E perché gemmeva quello, restando? E la moglie? Perché per me è veleno. Me ne vedi versare un dito nel bicchiere? Toglimelo e va a buttarlo dalla finestra, come ho fatto io, capisci? Malagna guardava, mortificato, sorridente, un po' Berto, un po' me, un po' la finestra, un po' il bicchiere, poi diceva. Oddio, e che sei forse una bambina? Io, con la violenza. Ma no, cara, tu da te, con la ragione, dovresti importere il freno. E come? gridava la moglie. Con la tentazione sotto gli occhi? Vedendo te che ne bevi tanto e te la sapori e te lo guardi contro lume per farmi dispetto, va là, ti dico, se fossi un altro marito, per non farmi soffrire. Ebbene, Malagna arrivò fino a questo. Non beve più vino per dare esempio di continenza alla moglie e per non farla soffrire. Poi rubava. Eh, sfido. Qualche cosa bisognava purché facesse, se non che, poco dopo, venne a sapere che la signora Guendalina se lo beveva di nascosto lei il vino, come se, per non farle male, potesse bastare che il marito non se ne accorgesse. E allora anche lui, Malagna, riprese a bere, ma fuor di casa, per non mortificare la moglie. Seguitò, tuttavia, a rubare, è vero. Ma io so che egli desiderava con tutto il cuore dalla moglie un certo compenso alle afflizioni senza fine che gli procurava. Desiderava, cioè, che ella, un bel giorno, si fosse risoluta a mettergli al mondo un figliuolo. Ecco, il furto allora avrebbe avuto uno scopo, una scusa, che non si fa per il bene dei figliuoli. La moglie, però, deperiva di giorno in giorno e Malagna non osava neppure esprimerle questo suo ardentissimo desiderio. Forse, ella era anche sterile di natura. Bisognava aver tanti riguardi per quel suo male che, se poi fosse morta di parto, Dio liberi. E poi c'era anche il rischio che non portasse a compimento il figliuolo. Così si rassegnava. Era sincero? Non lo dimostrò abbastanza la morte della signora Guendalina? La pianse, oh, la pianse molto. E sempre la ricordò con una devozione così rispettosa che, al posto di lei, non volle più mettere un'altra signora. Che che lo avrebbe potuto bene. Ricco, come già si era fatto, ma prese la figlia di un fattore di campagna. Sana, florida, robusta e allegra. E così, unicamente perché non potesse essere dubbio che ne avrebbe avuto la prole desiderata. Se si affrettò un po' troppo, via. Bisogna pur considerare che non era più un giovanotto e tempo da perdere non ne aveva. Oliva, figlia di Pietro Salvoni, nostro fattore a Due Riviere. Io la conoscevo bene da ragazza. Per cagion sua, quante speranze non feci concepire alla mamma. Che io stessi, cioè per mettere senno e prendere gusto alla campagna. Non capiva più nei panni, dalla consolazione poveretta. Ma un giorno, la terribile zia scolastica, le aprì gli occhi. E non vedi, sciocca che va sempre a Due Riviere. Sì, per il raccolto delle olive. D'un'oliva, d'un'oliva, d'un'oliva sola, bietolona. La mamma allora mi fece una romanzina coi fiocchi che mi guardassi bene dal commettere il peccato mortale di indurre in tentazione e di perdere per sempre una povera ragazza, eccetera, eccetera. Ma non c'era pericolo. Oliva era onesta, di un'onestà incrollabile. Perché, radicata nella coscienza del male che si sarebbe fatto, cedendo, questa coscienza appunto le toglieva tutte quelle insulse timidezze dei finti pudori e la rendeva ardita e sciolta. Come rideva, due ciriege le labbra. E che denti! Ma da quelle labbra neppure un bacio. Dai denti sì, qualche morso, per castigo. Quando io la afferravo per le braccia e non volevo lasciarla, se prima non le allungavo un bacio almeno sui capelli. Nient'altro. Ora, così bella, così giovane e fresca, moglie di Batta Malagna, ma chi ha il coraggio di voltare le spalle a certe fortune? Eppure Oliva sapeva bene come il Malagna fosse diventato ricco. Me ne diceva tanto male. Un giorno poi, per questa ricchezza appunto, lo sposò. Passa intanto un anno dalle nozze. Ne passano due e niente figliuoli. Malagna, entrato da tanto tempo nella convinzione che non ne aveva avuti dalla prima moglie solo per la sterilità o per la infermità continua di questa, non concepiva, ora neppure lontanamente, il sospetto che potesse dipendere da lui e cominciò a mostrare il broncio a Oliva. Niente? Niente. Aspettò ancora un anno, il terzo, in vano. Allora prese a rimbrottarla apertamente e infine, dopo un altro anno, ormai disperando per sempre, al colmo dell'esasperazione si misa a malmenarla senza alcun ritegno. Gridandola in faccia, con quella apparente floridezza, ella lo aveva ingannato, ingannato, ingannato. Che soltanto per aver da lei un figliuolo egli l'aveva innalzato fino a quel posto, già tenuto da una signora, da una vera signora, alla cui memoria, se non fosse stato per questo, non avrebbe fatto mai un tale affronto. La povera Oliva non rispondeva, non sapeva che dire, veniva spesso a casa nostra per sfogarsi con mia madre, che la confortava con buone parole, a sperare ancora, poiché infine era giovane, tanto giovane, vent'anni, ventidue. E dunque via, si era dato più di un caso di aver figliuoli anche dopo dieci, anche dopo quindici anni dal giorno delle nozze, quindici. Ma e lui? Lui era già vecchio. E se? Oliva era nato fin dal primo anno il sospetto che, via, tra lui e lei, come dire, la mancanza potesse più essere di lui che sua, nonostante che egli si ostinasse a dir di no. Ma se ne poteva far la prova? Oliva, sposando, aveva giurato a se stessa di mantenersi onesta e non voleva neanche per riacquistare la pace venire meno al giuramento. Come le so io queste cose? Oh bella, come le so. Ho pur detto che ella veniva a sfogarsi a casa nostra? Ho detto che la conoscevo da ragazza? Ora la vedevo piangere per l'indegno modo d'agire e la stupida e provocante presunzione di quell'ai dove chiaccio. E debbo proprio dire tutto? Del resto fu no. E dunque, basta. Me ne consolai presto. Avevo allora, o credevo da avere, che è lo stesso, tante cose per il capo. Avevo anche quattrini che, oltre al resto, forniscono pure certe idee, le quali senza di essi non si avrebbero. Mi aiutava però maledettamente a spendergli Gerolamo secondo Pumino, che non era mai provvisto abbastanza per la saggia parsimonia paterna. Mino era come l'ombra nostra, a turno mia e di Berto, e cangiava con meravigliosa facoltà scimmiesca, secondo che praticava con Berto o con me. Quando s'appiccicava Berto diventava subito un damerino e il padre allora, che aveva anche lui velleità ed eleganza, apriva un po' la bocca al sacchetto. Ma con Berto ci durava poco. Nel vedersi imitato, fin anche nel modo di camminare, mio fratello perdeva subito la pazienza, forse per paura del ridicolo o lo bistrattava fino a cavarsela di torno. Mino allora tornava ad appiccicarsi a me e il padre a stringere la bocca al sacchetto. Io avevo con lui più pazienza perché volentieri pigliavo a godermelo. Poi me ne pentivo, riconoscevo di aver ecceduto per causa sua in qualche impresa, ho sforzato la mia natura, ho esagerato la dimostrazione dei miei sentimenti per il gusto di stordirlo e di cacciarlo in qualche impiccio, di cui naturalmente soffrivo anch'io le conseguenze. Ora Mino un giorno a caccia, a proposito del Malagna, di cui gli avevo raccontato le prodezze con la moglie, mi disse che aveva adocchiato una ragazza, figlia di una cugina del Malagna, appunto, per la quale avrebbe commesso volentieri qualche grossa bestialità. Ne era capace, tanto più che la ragazza non pareva restia, ma egli non aveva avuto modo finora neppure di parlarle. «Non ne avrai avuto il coraggio, Malà!» dissi io ridendo. Mino negò, ma arrossì troppo negando. «Ho parlato con la serva», si affrettò a soggiungermi. «E non ho saputo di belle, sai? Ma detto che il tuo Malanno lo hanno lì sempre per casa e che, così all'aria, le sembra che mediti qualche brutto tiro, d'accordo con la cugina, che è una vecchia strega. Che tiro? Ma dice che va lì a piangere la sua sciagura di non aver figliuoli. La vecchia, dura arcigna, gli risponde che gli sta bene. Pare che essa, alla morte della prima moglie del Malagna, si fosse messa in capo di fargli sposare la propria figliuola e si fosse adoperata in tutti i modi per riuscirvi, che poi, disillusa, ne abbia detto di tutti i colori all'indirizzo di quel bestione nemico dei parenti, traditore del proprio sangue, eccetera, eccetera, e che se la sia presa anche con la figliuola, che non aveva saputo attirare a sé lo zio. Ora, infine, che il vecchio si dimostra tanto pentito di non aver fatto lieta la nipote, chissà qual'altra perfide idea quella strega può aver concepito. Mi turai gli orecchi con le mani, gridando a Mino, stazzito. Apparentemente no, ma in fondo ero pur tanto ingenuo in quel tempo. Tuttavia, avendo notizia delle scene che erano avvenute e avvenivano in casa Malagna, pensai che il sospetto di quella serva potesse in qualche modo essere fondato, e vogli tentare, per il bene d'oliva, se mi fosse riuscito ad appurare qualche cosa. Mi fesi dare da Mino il recapito di quella strega. Mino mi si raccomandò per la ragazza. Non dubitare, gli risposi, la lascio a te, che diamine. E il giorno dopo, con la scusa ad una cambiale, di cui, per combinazione quella mattina stessa, avevo saputo dalla mamma la scadenza in giornata. Andai a scovar Malagna in casa della vedova pescatore. Avevo corso apposta, e mi precipitai dentro tutto accaldato e in sudore. Malagna, la cambiale! Se già non avessi saputo che egli non aveva la coscienza pulita, me ne sarei accorto senza dubbio quel giorno, vedendolo balzare in piedi pallido, scontraffatto, balbettando. Che cambiale? La cambiale è così e così che scade oggi. Mi manda la mamma, che ne è tanto impensierita. Batta Malagna, cadde a sedere, esalando in un interminabile. Tutto lo spavento che, per un istante, lo aveva oppresso. Ma fatto, tutto fatto, perbacco, che soprassalto. L'ho rinnovata. Eh, a tre mesi, pagando i frutti, si intende. Ti sei davvero fatta con questa corsa per così poco? E rise, rise, facendo sobbalzare il pancione. Mi invitò a sedere e mi presentò alle donne. Mattia Pascal, Marianna Dondi, vedova, pescatore. Mia cugina, Romilda, mia nipote. Vole che, per rassettarmi dalla corsa, bevessi qualcosa. Romilda, se non ti dispiace? Come se fosse a casa sua. Romilda si alzò, guardando la madre, per consigliarsi con gli occhi di lei. E poco dopo, nonostante le mie proteste, tornò con un piccolo vassoio, su cui era un bicchiere e una bottiglia di vermouth. Subito, a quella vista, la madre si alzò, indispettita, dicendo alla figlia, ma no, ma no, da qua. Le tolse il vassoio dalle mani e uscì per rientrare poco dopo con un altro vassoio di lacca, un uovo fiammante, che reggeva una magnifica rosoliera, un elefante inargentato con una botte di vetro sul groppone e tanti bicchierini appesi tutti intorno che tintinnavano. Avrei preferito il vermouth, bevi il rosolio, ne bevero anche il malagna e la madre, Romilda no. Mi trattenni poco, quella prima volta, per avere una scusa a tornare. Dissi che mi premeva di rassicurar la mamma intorno a quella cambiale e che sarei venuto di lì a qualche giorno a godere con più agio della compagnia delle signore. Non mi parve dall'aria con cui mi salutò che Marianna Dondi, vedova pescatore, accogliesse con molto piacere l'annunzio di una mia seconda visita. Mi porse appena la mano, gelida mano, secca, nodosa, gialliccia, e abbassò gli occhi e strinse le labbra. Mi compensò la figlia con un simpatico sorriso che prometteva cordiale accoglienza e con uno sguardo dolce e mesto a un tempo. Di quegli occhi che mi fecero fin dal primo vederla una così forte impressione. Occhi d'uno strano colore verde, cupi intensi, ombreggiati da lunghissime ciglia. Occhi notturni, tra due bande di capelli neri come lebano, ondulati, che le scendevano sulla fronte e sulle tempie così a far meglio risaltare la viva bianchezza della pelle. La casa era modesta, ma già tra i vecchi mobili si notavano parecchi nuovi venuti, pretenziosi e goffi nell'ostentazione della loro novità troppo appariscente. Due grandi lumi di maiolica, per esempio, ancora intatti dai globi di vetro smerigliato, di strana foggia su un'umilissima mensola dal piano di marmo ingiallito, che reggeva uno specchio tetro in una cornice tonda, quella scrostata, la quale pareva si aprisse nella stanza come uno sbadiglio d'affamato. C'era poi, davanti al divanuccio sgangherato, un tavolinetto con le quattro zampe dorate e il piano di porcellana dipinto di vivacissimi colori, poi uno stipetto a muro di lacca giapponese, eccetera eccetera. E su questi oggetti nuovi gli occhi di Malagna si fermavano con evidente compiacenza, come già sulla rosoliera recata in trionfo dalla cugina vedova pescatore. Le pareti della stanza erano quasi tutte tappezzate di vecchie e non brutte stampe, di cui il Malagna volle farmi ammirare qualcuna, dicendomi che erano opera di Francesco Antonio Pescatore, suo cugino. Valentissimo incisore, morto pazzo a Torino, aggiunse piano, del quale volle anche mostrarmi il ritratto, eseguito con le proprie mani da sé davanti allo specchio. Ora io, guardando Romilda e poi la madre, avevo poc'anzi pensato, somiglierà al padre? Adesso, di fronte al ritratto di questo, non sapevo più che pensare. Non voglio arrischiare supposizioni oltreggiose. Stimo, è vero, Mariana Dondi, vedova pescatore capace di tutto. Ma come immaginare un uomo? E per giunta bello, capace d'essersi innamorato di lei? Tranne che non fosse stato un pazzo più pazzo del marito. Riferì a Mino le impressioni di quella prima visita. Gli parlai di Romilda con tal calore d'ammirazione che egli subito se ne accese. Felicissimo che anche a me fosse tanto piaciuta e d'aver la mia approvazione. Io allora gli domandai che intenzioni avesse. La madre, sì, aveva tutta l'aria di essere una strega, ma la figliuola, ci avrei giurato, ero onesta, nessun dubbio sulle mire infami del malagna. Bisognava dunque a ogni costo al più presto salvare la ragazza. E come? Mi domandò Pomino, che pendeva affascinato dalle mie labbra. Come? Vedremo. Bisognerà prima di tutto accertarsi di tante cose, andare in fondo, studiar bene. Capirai, non si può mica prendere una risoluzione così su due piedi. Lascia fare a me, t'aiuterò. Codesta avventura mi piace. E... ma... obiettò allora Pomino, timidamente, cominciando a sentirsi sulle spine nel vedermi così infatuato. Tu diresti forse sposarla? Non dico nulla io per adesso. Hai paura, forse? No. E perché? Perché ti vedo correre troppo. Piano piano. E rifletti. Se veniamo a conoscere che ella è davvero come dovrebbe essere, buona, saggia, virtuosa, bella è, non c'è dubbio, e ti piace, non è vero. Pomino, ora che veramente ella sia esposta per la nequizia della madre e di quell'altra canaglia a un pericolo gravissimo, a uno scempio, a un mercato infame. Proveresti ritegno innanzi a un atto meritorio, a un'opera santa di salvazione? Io no, no, fece Pomino. Ma mio padre sopporrebbe? Per qual ragione? Per la dote, è vero, non per altro, perché ella, sai, è figlia di un artista, di un valentissimo incisore morto. Sì, morto bene, insomma, a Torino, ma tuo padre è ricco e non ha che te solo. Ti può dunque contentare senza badare alla dote, che se poi con le buone non riesci a vincerlo? Niente paura, un bel volo dal nido e s'aggiusta ogni cosa. Pomino, hai il cuore di stoppa? Pomino rise e io allora gli dimostrai 448 che egli era nato marito, come si nasce poeta. Gli descrissi a vivi colori, seducentissimi, la felicità della vita coniugale con la sua Romilda, l'affetto, le cure, la gratitudine che l'avrebbe avuto per lui, suo Salvatore. E per concludere, tu ora gli dissi, devi trovare il modo e la maniera di farti notare da lei e di parlarle e di scriverle. Vedi, in questo momento, forse, una tua lettera potrebbe essere per lei assediata da quel ragno un'ancora di salvezza. Io intanto frequenterò la casa, starò a vedere, cercherò di cogliere l'occasione di presentarti. Siamo intesi? Intesi. Perché mostravo tanta smania di marità Romilda? Per niente, ripeto, per il gusto di stordire Pomino. Parlavo e parlavo e tutte le difficoltà sparivano. Ero impetuoso e prendevo tutta la leggera. Forse per questo allora le donne mi amavano, nonostante quel mio occhio un po' sbalestrato e il mio corpo da pezzo da Catasta. Questa volta, però, devo dirlo, la mia foga proveniva anche dal desiderio di sfondare la trista ragna ordita da quel laido vecchio e farlo restare con un palmo di naso. Dal pensiero della povera oliva e anche, e perché no, dalla speranza di fare un bene a quella ragazza che veramente mi aveva fatto una grande impressione. Che colpa ho io se Pomino eseguì con troppa timidezza le mie prescrizioni? Che colpa ho io se Romilda, invece di innamorarsi di Pomino, si innamorò di me? Che pur le parlavo sempre di lui? Che colpa, infine, se la perfidia di Marianna Dondi, vedova pescatore, giunse fino a farmi credere che io, con la mia arte, in poco tempo, fossi riuscito a vincere la diffidenza di lei e a fare anche un miracolo? Quella di farla ridere più di una volta con le mie uscite balzane? Le vidi a poco a poco cederle armi. Mi vidi accolto bene, pensai che con un giovanotto lì per casa, ricco, io mi credevo ancora ricco, e che dava non dubbi segni di essere innamorato della figlia, e la avesse finalmente smesso la sua iniqua idea, seppur le fosse mai passate per il capo? Ecco, ero giunto finalmente a dubitarne. Avrei dovuto, è vero, badare al fatto che non m'era più avvenuto di incontrarmi col malagna in casa di lei, e che poteva non essere senza ragione che la mi ricevesse soltanto di mattina, ma chi ci badava? Era del resto naturale, poiché io ogni volta, per aver maggior libertà, proponevo gite in campagna che si fanno più volentieri di mattina. Mi ero poi innamorata anch'io di Romilda, pur seguitando sempre a parlarle dell'amore di Pomino, innamorato come un matto di quegli occhi belli, di quel nasino, di quella bocca, di tutto, fin anche d'un piccolo porro che l'aveva sulla nuca, ma fin anche d'una cicatrice quasi invisibile in una mano, che le baciavo e le baciavo e le baciavo per conto di Pomino perdutamente. Eppure forse non sarebbe accaduto nulla di grave se una mattina a Romilda eravamo all'astia e avevamo lasciato la madre ad ammirare il molino. Tutto a un tratto, smettendo lo scherzo troppo ormai prolungato sul mio timido amante lontano, non avesse avuto un'improvvisa convulsione di pianto e non mi avesse buttato le braccia al collo, scongiurandomi tutta tremante che avessi pietà di lei. Me la togliessi comunque, purché via lontano, lontano dalla sua casa, lontano da quella sua madraccia, da tutti, subito, 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 subito. Lontano? Come potevo così subito condurla via lontano? Dopo, sì, parecchi giorni, ancora ebbro di lei, cercai il modo risoluto a tutto onestamente e già cominciavo a predisporre mia madre alla notizia del mio prossimo matrimonio, ormai inevitabile per debito di coscienza, quando, senza sapere perché, mi vide arrivare una lettera secca secca di Romilda, che mi diceva di non occuparmi più di lei in alcun modo e di non recarmi mai più in casa sua, considerando come finita per sempre la nostra relazione. Ah sì? E come? Che era avvenuto? Lo stesso giorno l'Iva corse piangendo in casa nostra ad annunziare alla mamma che ella era la donna più infelice di questo mondo, che la pace della sua casa era per sempre distrutta. Il suo uomo era riuscito a far la prova che non mancava per lui aver figliuoli. Era venuto ad annunzarglielo, trionfante. Ero presente a questa scena. Come abbia fatto a frenarmi lì per lì, non so. Mi trattenne il rispetto per la mamma. Soffocato dall'ira, dalla nausea, scappai a chiudermi in camera e solo, con le mani tra i capelli, cominciai a domandarmi come mai Romilda, dopo quanto era avvenuto fra noi, si fosse potuta prestare a tanta ignominia. Ah, degna figlia della madre, non il vecchio soltanto avevano entrambe vilissimamente ingannato, ma anche me, anche me. E come la madre, anche lei dunque si era servita di me, vituperosamente, per il suo fino infame, per la sua ladravoglia, e quella povera Oliva, intanto rovinata, rovinata. Prima di sera uscì, ancor tutto fremente, diretto alla casa d'Oliva. Avevo con me in tasca la lettera di Romilda. Oliva, in lacrime, raccoglieva le sue robe. Voleva tornare dal suo babbo, a cui finora, con prudenza, non aveva fatto neppure un cenno di quanto l'era toccato a soffrire. Ma, ormai, che sto più a farci, mi disse, è finita. Se si fosse almeno messo con qualche altra, forse. Ah, tu sai dunque, le domandai, con chi si è messo? Chinò più volte il capo tra i sinuzzi e si nascose la faccia tra le mani. Una ragazza, esclamò poi, levando le braccia. È la madre. La madre, la madre, d'accordo, capisci, la propria madre. Lo dice a me, fici io. Tieni, leggi. E le porsi la lettera. Oliva la guardò come stordita, la prese e mi domandò, che vuol dire? Sapeva leggere appena. Con lo sguardo mi chiese se fosse proprio necessario che la facesse quello sforzo in quel momento. Leggi, insistiti io. E allora ella si asciugò gli occhi, spiegò il foglio e si mise a interpretare la scrittura pian piano, sillabando. Dopo le prime parole, corse con gli occhi alla firma e mi guardò sgranando gli occhi. tu. Da qua, le dissi. Te la leggo io per intero. Ma ella si strinse la carta contro il seno. No, gridò. Non te la do più. Questa ora mi serve. E a che potrebbe servirti? Le domandai, sorridendo amaramente. Vorresti mostrargliela? Ma in tutta codesta lettera non c'è una parola per cui tuo marito potrebbe non credere più a ciò che egli invece è felicissimo di credere. Te l'hanno accalappiato bene, va là. Ah, è vero, è vero. Gemette Oliva. Mi è venuto con le mani in faccia gridandomi che mi fossi guardata bene dal mettere in dubbio l'onorabilità di sua nipote. E dunque, dissi io, ridendo acre, vedi? Tu non puoi più ottenere nulla negando. Te ne devi guardare bene. Devi anzi dirgli di sì, che è vero, verissimo, che egli può aver figliuoli. Comprendi? Ora perché mai, circa un mese dopo, Malagna picchiò furibondo alla moglie e con la schiuma ancora alla bocca, si precipitò in casa mia gridando che esigeva subito una riparazione perché io gli avevo disonorata, rovinata una nipote. Una povera orfana, soggiunse, che per non fare uno scandalo egli avrebbe voluto tacere, per pietà di quella poveretta, non avendo egli figliuoli, aveva anzi risoluto di tenersi quella creatura quando sarebbe nata come sua. Ma ora che Dio finalmente gli aveva voluto dare la consolazione di aver un figliuolo legittimo, lui, dalla propria moglie, non poteva, non poteva più in coscienza fare anche da padre a quell'altro che sarebbe nato da sua nipote. Mattia provveda. Mattia ripari, concluse, congestionato dal furore, e subito mi si obbedisca subito e non mi si costringa a dire di più o a fare qualche sproposito. Ragioniamo un po'. Arrivate a questo punto, io non ho visto di tutti i colori. Passare anche per imbecille o per peggio, non sarebbe in fondo per me un gran guaio. Già, ripeto, sono come fuori della vita e non mi importa più di nulla. Se dunque arrivato a questo punto voglio ragionare è soltanto per la logica. Mi sembra evidente che Romilda non ha dovuto far nulla di male, almeno per indurre in inganno lo zio. Altrimenti perché malagna avrebbe subito, a suon di busser infacciato alla moglie il tradimento, e incolpato me presso mia madre di aver recato il traggio alla nipote. Romilda, infatti, sostiene che, poco dopo, quella nostra gita la stia, sua madre, avendo ricevuto da lei la confessione dell'amore che ormai la legava a me indissolubilmente, montata su tutte le furie, le aveva gridato in faccia che mai e poi mai avrebbe ha consentito a farle sposare uno scioperato, già quasi all'orlo del precipizio. Ora, poiché da sé ella aveva recato a se stesse il peggior male che a una fanciulla possa capitare, non restava più a lei, madre previdente, che di trarre da questo male il miglior partito. Quale fosse, era facile intendere. Venuto allora solita, il malagna, ella andò via con una scusa e la lasciò sola con lo zio. E allora lei, Romilda, piangendo, dice a calde lacrime, si gettò ai piedi di lui, gli fece intendere la sua sciagura e ciò che la madre avrebbe preteso da lei. Lo pregò di interporsi, di indurre la madre a più onesti consigli, poiché ella era già ad un altro a cui voleva serbarsi fedele. Malagna si intenerì, ma fino a un certo segno. Le disse che ella era ancora minorenne e perciò sotto la potestà della madre, la quale, volendo, avrebbe potuto anche agire contro di me, giudiziariamente. Che anche lui, in coscienza, non avrebbe saputo approvare un matrimonio con un discolo della mia forza, sciupone e senza cervello, e che non avrebbe potuto perciò consigliarlo alla madre. Le disse che al giusto e naturale sdegno materno bisognava che lei sacrificasse pure qualche cosa, che sarebbe poi stata del resto la sua fortuna, e conclusa che egli non avrebbe potuto, infine, far altro che provvedere, a patto però che si fosse serbato con tutti il massimo segreto, provvedere al nascituro, fargli da padre, ecco, già che egli non aveva figlioli e ne desiderava tanto, e da tanto tempo uno. Si può essere, domando io, più onesti di così? Ecco qua, tutto quello che aveva rubato al padre, egli lo avrebbe rimesso al figliuolo nascituro. Che colpa a lui se io, poi, ingrato e sconoscente, andai a guastargli le uova nel paniere? Due no, eh, due no, perbacco. Gli parvero troppi, forse perché, avendo già Roberto, come ho detto, contratto un matrimonio vantaggioso, stimò che non lo avesse danneggiato tanto da dover rendere anche per lui. In conclusione si vede che, capitato in mezzo a così brava gente, tutto il male lo avevo fatto io, e dovevo dunque scontarlo. Mi ricusai da prima sdegnosamente, poi, per le preghiere di mia madre, che già vedeva la rovina della nostra casa e sperava che io potessi in qualche modo salvarmi, sposando la nipote di quel suo nemico, cedetti e sposai. Mi pendeva tremenda sul capo l'ira di Marianna Dondi, vedova pescatore.